no sto 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 valutando quello che devo dire baldi giovani poi ho mangiato anche un po di crostata ce l'ho tra i denti ma di questo non me ne frega una mazza volete sentire però spadafora non l'avete fatto ve lo butto qui nella mischia gli italiani continueranno a vedere le partite di pallone? sì io penso proprio di sì e lo spero e me lo auguro per tutti loro ma sempre con gli stati vuoti? per adesso sicuramente sì le regioni avevano proposto un 25% rispetto al pubblico possibile però per adesso non possiamo autorizzarlo fino a quando? almeno fino al prossimo mese dobbiamo vedere come andrà la curva dei contagi da qui fino a metà novembre Ronaldo ha violato il protocollo andando e tornando dal Portogallo? sì io penso proprio che sì se non ci sono state autorizzazioni specifiche delle autorità sanitari ecco proprio ieri la Juventus pubblicava questo sul proprio sito ufficiale rientro a Torino di Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo è rientrato in Italia con volo sanitario autorizzato dalle autorità sanitarie competenti su richiesta scusate di gestione del calciatore e proseguirà il suo isolamento fiduciario presso il proprio domicilio in realtà non è che cambi qualcosa a qualcuno nel momento in cui se lo fa se lo fa da una parte o all'altra l'isolamento fiduciario ma la questione è la stessa cioè no la stessa mamma mia sto messo male e poi di sti tempi e di sti periodi si può essere anche un pericolo pubblico però il discorso è quello allora ritornando un po' seri ma non ce la faccio a essere serio perché perché odio perché ecco andiamo dal principio perché odio la pausa delle nazionali perché odio quando poi non si gioca a calcio odio perché comunque i giornali vanno riempiti le radio devono parlare gli youtubers che è un'altra categoria la nostra devono in qualche modo dire la loro ecco mi ci butto mi ci butto anch'io nel circolo non sto qui a nascondere la mano però cioè si deve creare la polemica quando non ci sono le partite si deve creare la polemica anche dal nulla e mi viene da ridere mi viene da piangere ad una roba del genere che non ha nessun senso costruttivo uno spadafora ministro dello sport che va alla radio a dire avvio la sì ha violato il protocollo se non è stato autorizzato che ha detto una roba ha detto una mezza verità le cose peggiori sapete quale sono le mezze verità o le mezze bugie ha detto una verità sì credo proprio di sì nel momento in cui non è autorizzato ma è autorizzato questo questo è il discorso quindi secondo me guarda vi dico un'altra roba queste cose le creano proprio ad hoc le creano proprio ad hoc perché devono far parlare perché sennò di cosa cazzo parliamo le creano proprio ad hoc perché è una polemica nata nel nulla proprio proprio senza alcun senso senza proprio nulla 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 ma la cosa grave è comunque che essendo un ministro dello sport cazzo Ronaldo ha autorizzato meno prima di parlarne ma sappi se è stato autorizzato meno ecco perché dico no secondo me lo fanno proprio a posto si mettono là che cazzo dobbiamo dire diciamo questo e lo lanciamo come anteprima così se ne parla e infatti è uscita alle 17 ma si sapeva l'anteprima già stamani di quello che fosse di quello che avesse detto o comunque qualche ora prima della pubblicazione si sapeva tutto è un mondo dove ogni cosa è studiata a tavolino e io francamente ne ho le palle piene di ste robe di ste robe dove poi alla fine chi ci perde chi ci perde eh noi guarda poi ce la prendiamo e siamo siamo i siamo i primi a farlo ce la prendiamo con i con i tifosi beceri con quelli che offendono con quelli che insultano con quelli che alla prima occasione si poi si azzannano e si buttano su queste notizie qua eh si buttano su queste per fomentare per eh sì è sbagliatissimo con questi sono la peggior specie sicuramente sì però sono frutto sono frutto appunto di ste di ste di ste macchinazioni qua che si fanno eh di uno spadafora al ministero dello sport che prima di dire alcune cose visto che stiamo parlando di ronaldo visto che stiamo parlando di personaggi che fanno notizia informiamoci nel momento in cui non lo facciamo allora è proprio per una questione di proposito è proprio per una questione di proposito questo è il discorso ed è molto triste ed è molto triste perché ripeto poi 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 le diatribe gli animi accesi da parte delle tifoserie che si scannano tra virgolette dipendono da ste robette qua dipendono da ste robette perché c'è poi chi chi come al solito attizia il fuoco e questo è il discorso e questo ecco perché io odio quando ci sono buchi quando ci sono buchi perché poi questi buchi vanno riempiti non si sa come riempirli e li si riempie con ste notizie frivole che non che fanno pena che fanno pena che non non ha senso proprio quindi di che cazzo stiamo parlando oggi stiamo parlando di qualcosa che non ha senso oggi stiamo parlando di una polemica inutile inutile questo è inutile però giustamente io capisco anche spadaforo le radio perché loro devono riempire bisogna riempire se non come si va avanti però questo poi ecco porta a un effetto collaterale che sia ben chiaro eh ai tifosi si lotta si va eh si si buttano si buttano sulla brace che cazzo sto dicendo io non lo so in questo momento perché sono talmente rincoglionito ultimamente però se danno in pasto queste notizie ai vari tifosi invece ma appunto sappiate anche quello che fate ecco perché poi non è che ci dobbiamo lamentare se vediamo insulti ovunque se spadafora adesso come al solito viene imputato come tifoso napoletano lui stesso ha detto di di esserlo e quindi sei questo sei quello sei quell'altro che non è un alibi e non è giusto assolutamente ste robe non devono esistere però ripeto tutte queste macchinazioni create ad hoc ogni volta quando c'è bisogno di riempire i buchi si buttano ste robe che ripeto non c'è un senso su sta polemica non c'è un senso perché è stata studiata talmente bene che tu tra le tette non puoi attaccare neanche spadafora è stata creata bene perché spadafora dice la verità sostanzialmente che ronaldo penso di sì se ha violato il protocollo se ormai c'è sto protocollo penso di sì se non è stato autorizzato però è stato autorizzato quindi non è che ha detto l'ha violato sì perché non è stata autorizzata è tutto sì l'ha violato se non è stato autorizzato l'ha violato allora è capito è come dico sì hai sbagliato il gol se non lo hai segnato ma il gol lo hai segnato allora non lo hai sbagliato ecco stiamo parlando del nulla stiamo parlando del nulla del nulla cosmico eppure polemiche come al solito insulti andate a vedere sui social bufere ma queste le vogliono loro ecco io adesso ripeto sta cambiando la mia percezione io prima prima me la prendevo con con quello che è l'effetto collaterale ossia con il tifoso becero con quello là con quello là che come al solito deve sempre insultare ma quello ripeto quello è figlio è figlio di ste macchinazioni qua di ste cose create ad hoc questo è ed è ancora più grave perché se il tifoso becero è quello là ed è quello c'è poco da fa questi sono quelli che invece in teoria dovrebbero avere il cervello e invece fomentano perché giustamente guardano i cazzi loro devono riempire e questo è non lo so sembra un po' insulso come ragionamento è sicuramente contorto spiegato in una maniera imbarazzante e vi posso dar ragione però badate al contenuto alla linearità di pensiero qualora lo fosse perché questo ed è uno schifo vabbè fatemi sapere che ne pensate voi commentate iscrivetevi al canale buonanotte buonanotte perché buonanotte non lo so iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale